Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 per lavori fino alle 18 è chiuso in direzione Roma il tratto tra il Bidio A1 variante di Valico e Aglio. Sulla Fipili per lavori, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Un raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.